A Castiglione del Lago il percorso di avvicinamento all'inaugurazione del nuovo cinema caporali prosegue con nuove iniziative di Lago d'Arte Impresa Sociale, società che gestisce lo spazio espositivo di Palazzo della Cornia e il rinnovato cinematografo. Oltre alla bella mostra Cinema Dipinto e Storie di Sale Salvate e Perdute, dedicata al cinema e alla storia della sala cinematografica castiglionese, visitabile fino al 22 gennaio a Palazzo della Cornia, da tre giorni a Castiglione c'è un videomapping che ogni sera, per tutto il periodo natalizio e in concomitanza con luci sul Trasimeno, illumina la facciata del cinema caporali con una storia che percorre la vita della struttura, prima chiesa di Sant'Agostino, poi cinema e teatro dagli anni 30 ed infine ristrutturata completamente negli anni 60 dello scorso secolo. La videoinstallazione è prodotta dal movimento Creative Label di Castiglione del Lago ed è il titolare Simone Pucci che ne spiega gli aspetti più innovativi. Stiamo sperimentando per la prima volta l'uso dell'intelligenza artificiale per la generazione di immagini e filmati di animazione. Il progetto che utilizziamo proviene direttamente dall'Università di Monaco di Baviera e stiamo sperimentando questa interessante novità con ottimi risultati. In pratica, partendo da un testo e con alcuni elementi storici, il sistema genera le immagini figurative animate che raccontano una storia, la storia del caporali in questo caso. Le immagini generate con intelligenza artificiale nella parte che riguarda registi e attori si ispirano all'arte di Mimmo Rotella. Per la ricostruzione della chiesa di Sant'Agostino e della prima sala cinematografica caporali, spiega Piero Sacco, presidente di Lago d'Arte, abbiamo seguito le indicazioni dello storico geometra comunale castiglionese Luigi Beccherini, aggiungendo poi piccoli elementi di fantasia come le due torce sulla facciata ed il cappello sul palco. Il film proiettato nel vecchio caporali è Catene di Raffaello Matarazzo, grande successo degli anni 40 ed effettivamente proiettato. Secondo i testimoni, nel foyer dell'animazione tra le locandine c'è anche quella di Catene. Un elemento contenuto nel video, i film proiettati sulle due sale del nuovo cinema danno una prima indicazione della loro destinazione. più Pop la sala rossa, quella grande, Cult e De Se la sala verde.